Benvenuti al messaggio per questo mese. Il messaggio del nostro angelo per questo mese è espansione in orizzontale. Cosa vuol dire? Vuol dire aprirsi alla crescita in mezzo agli altri e insieme agli altri, in interrelazione, non da soli, non chiusi in se stessi, ma accogliendo la diversità, accogliendo ogni altro essere come una parte di noi. Espansione in orizzontale. Grazie.